Bene, a me piacciono questi qui con tanti bottoni, cinturini. A me piace tutta la roba sportiva. E questo che cosa ne dice, signora? Sì, ecco, io credo che vada molto bene. Sì, faccia vedere quello lì. Sì, sì. Quello lì, qui cinturini? Beh, quello lì va sulle 25, 26 mila lire, sai, un capopine. No, no, per carità, ho avuto troppe spese. Costa di più, le capisce? Proprio perché deve andare a lavorare. Mi faccia vedere qualche cos'altro. Ecco, quello lì, per esempio. Sì, sì, ecco, proprio quello lì. Allora, Sartori, ecco, e lei? Cantoni. Cantoni, Cantoni. Stamattina mia moglie mi ha dato un bel bacione. Ormai me lo dà solo notte al mese. Giornale, io non ero paghetto. Sì. 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 Sì.